Un gol pazzesco! 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 pool play out che sta vivendo anche di momenti importanti con risultati anche in questo caso molto sorprendenti. Vediamo. I risultati della terza giornata accendono improvvisamente quanto riservato dal calendario nel prossimo sabato della pool promozione. Bressanone e Trieste, le due formazioni provenienti dal Gironean nell'ultimo weekend di gare lanciano messaggi chiari alle concorrenti. Due vittorie, gli altoatesini contro l'Oriago Padova col punteggio di 30-26 i Giuliani sul Cologna e 27-23 alla pala Chiarbola. Da qui si arriva al prossimo sabato dove sempre al Chiarbola la squadra di Oveglia e quella di Kramer si affronteranno in uno scontro diretto che vale il primato in graduatoria. Subito dietro intanto occhio al rientro dell'Albatro Siracusa che batte 28-22 fondi e si prepara la trasferta di Cologna valevole per il programma di una quarta giornata pronta a dire tanto in ottica Gironeunico. In pool play out intanto dopo i risultati dell'ultimo turno c'è più di qualche gara da cercare in rosso sul calendario. Si inizia dal Gironeai da Malovezzo Corona, sfida importante per rientrare nei play out permanenza. Discorso analogo per Modena Romagna e per Benevento Ragusa, gare destinate a spostare gli equilibri nelle pool dei gironi B e C. Allora la grafica che la regia ci propone immediatamente ci aiuta a ragionare meglio con Massimo Petanzi avendo chiaro il quadro della situazione. Nel Gironea c'è una squadra che sta facendo molto bene, credo che tu la conosca in qualche modo che è il Cassano Magnago, occhio però al Merano che dopo un inizio di seconda fase non proprio brillantissimo sta ritornando sotto ma poi sostanziale equilibrio. Nel Girone B Bene Teramo, Tavernelle, Carpi che insegue, nel Girone C il Gaeta sta confermando anche quanto di buono fatto soprattutto nella prima fase della stagione, poi ha avuto un periodo di appannamento la squadra di Aonelli. Che quadro individui al di là dei numeri? Al di là dei numeri diciamo che proprio a causa di come è stata strutturata la formula ci sono ancora ampi margini di miglioramento da parte di tutte le società e ancora grandi speranze da parte l'80% delle squadre coinvolte perché a parte le ultime due nel Girone A e le ultime del Girone B e C, tutte le altre avranno ancora la chance per poter addirittura accedere alla massima serie del prossimo anno. Quindi secondo me la guerra è ancora molto aperta e io ritengo che questa formula entrerà proprio nel vivo nella fase successiva perché adesso grosso modo più o meno i giochi si sono anche visti soprattutto per quelli che avranno diritto a partecipare alla fase successiva. Il problema sarà dopo e lì sarà veramente uno scontro, come si chiama, come si suol dire all'ultimo sangue, partita per partita. Allora ok Corral, vediamo anche play out per chiudere il quadro relativo al settore maschile. Questo intanto è il prossimo turno della pool promozione che vede Cologne affrontare l'Albatro, poi Oriago, Fondi e Trieste. Bressanone, Bressanone in testa nella pool promozione che insomma vede comunque Bressanone confermare quanto di buono fatto già nella prima fase della stagione. Ma diciamo che sul nome del Bressanone, io che purtroppo ho avuto la sfortuna di incontrare nella fase regolare, credo che ci siano pochi dubbi sul fatto che possa raggiungere l'obiettivo salvo casi clamorosi. Per quanto riguarda il resto bisogna vedere la tenuta che potrà avere il Trieste nel complesso di tutte le giornate, anche se l'ha dimostrato sostanzialmente nei fatti che potrebbe avere qualche chance in più degli altri e poi per il resto penso sia abbastanza guerra aperta. Che poi insomma ragioniamo con Massimo Petazzi di questa formula che ai più potrebbe sembrare abbastanza complicata, anche in qualche modo difficile da comprendere, ma l'ingegner Petazzi è proprio colui il quale ha immaginato questo meccanismo che qualcuno ha definito infernale, ma che era probabilmente anche l'unico che potesse poi portare alla formulazione del giornale unico. Sì, si è voluto dare un taglio più che geografico politico e che avrebbe salvato Caprecaoli nel senso che sarebbe stata una formula molto semplice, è stata preferita una situazione di merito, ossia tecnico-agonistica. Poi ci sarà anche una fase ulteriore quando non c'è la nuova moda in me, ma questo è meglio non dirlo adesso. Per quanto riguarda la selezione tecnico-agonistica ritengo che difficilmente si poteva creare un meccanismo più selezionante di questo. Allora, vediamo invece cosa è successo in Europa, Matteo, in questo fine settimana. In Champions League non si è giocato perché si attendono gli ottavi di finale, si torna in campo il 25 marzo prossimo, nel fine settimana del 25 marzo prossimo per il rush finale che porterà poi alla Final Four. Paris Saint-Germain e Vardar sono le uniche che hanno vinto i due gironi, gruppi A e B, sono quindi qualificate già di diritto ai quarti, non passano per gli ottavi. Per quanto riguarda il quadro completo degli ottavi vediamo invece la nostra grafica. Montpellier-Barcellona, Skiern contro Vespre, Meshko-Brest-Nant, Kristianstad contro Flensburg, vive Tauron-Kielse-Leuven e Zeged-Kiel. Questo è il quadro delle gare che come detto si giocano tra il 25 marzo e poi il weekend del primo aprile, 31 marzo, quindi nel weekend di Pasqua. Queste sono le gare, il tutto per arrivare naturalmente al grande weekend finale della Champions League, ovvero la Final Four a Colonia. Si disputerà a fine maggio, un grande appuntamento sempre molto sentito, già sold out praticamente, già in 20.000 saranno presenti sugli sparti per quello che è il grande momento, il momento finale della pallamano europea che tutta la pallamano europea attende. E che attendiamo con ansia e che avremo anche modo di vedere in diretta nel corso delle nostre telecronache. Ora ancora ritorniamo in Italia per aprire un'ampia parentesi dedicata al settore femminile, partendo però dal massimo campionato. Questa è anche una settimana importante che precede il doppio confronto delle azzurre contro la Slovacchia, azzurre peraltro impegnate in un training camp congiunto con la nazionale statunitense a Serno. Ma procediamo con ordine, priorità al massimo campionato che ha vissuto nello scorso fine settimana un turno davvero molto importante. Il servizio. La Iomi Salerno è la nuova capolista della Serie 1 femminile. A quattro giornate dal termine della regular season, nel diciannovesimo turno, l'ultimo prima della pausa per gli impegni della nazionale, le campionesse d'Italia piazzano l'affondo ai danni dell'indecco conversano e completano col sorpasso tanto cercato. Una rincorsa iniziata nel novembre scorso. Il tutto frutto dello scontro diretto di sabato al Palapalumbo. In diretta TV su Sport Italia le campane giocano una partita da incorniciare senza sbavature fatta di grande concentrazione. Gara godibile, buoni i ritmi offerti da ambo le parti. Conversano però arriva col fiato corto alla ripresa. Finale 25-17 che ribalta il 24-19 in favore delle pugliesi all'andata e pone le campane in pole position per il primo posto al termine della prima fase. L'unica a precedere il playoff scudetto. Non cambia nulla intanto nella lotta per terza e quarta posizione. Vince il Cassano Magnago che supera 24-22 Oderso al Palatacca in uno scontro diretto in piena regola. Vince anche Casalgrande. Emiliane implacabili in un derby comunque complicato in casa della Riosto Ferrara. 25-23 il risultato finale alla Palaposchetto. Bressanone supera in campo e in classifica le stense 24-21 e si porta dal sesto posto. Le ferraresi vengono raggiunte a quota 17 da Dossubuolo che torna intanto a vincere. Lo fa in maniera perentoria. 52-23 contro Teramo. Le abruzzesi vengono staccate in classifica dal Flavioni che da par suo trova due punti preziosi in chiave salvezza battendo alla pala San Filippo la Leonessa nel risultato a sorpresa della diciannovesima giornata. Ora ci si ferma spazio alla nazionale femminile che fra 21 e 24 marzo affronterà due volte la Slovacchia nelle qualificazioni agli europei 2018. Il campionato di A1 femminile tornerà invece nel weekend del 7 aprile prossimo. Allora, big match ad appannaggio di Salerno, vittoria importante no? Perché ribalta completamente la situazione. Sì, diciamo che è chiarificato su chi è il vero leader del campionato al momento attuale perché è sicuramente Salerno con una prestazione ritengo giusta e tecnicamente molto valida. Ha dimostrato di essere al momento attuale la squadra più titolata per avere la leadership della classifica. Per il gioco delle differenze reti adesso ha acquisito anche il diritto di essere... Alle spalle del tandem c'è Cassano Magnaco anche in questo caso. Grande equilibrio perché Casalgrande e Oderso sono in tante a sperare c'è... Qua, qua, qua a fare un progetto oggi al di là della classifica in se stessa c'è veramente grande difficoltà. Intanto la possiamo anche vedere la classifica così. Sì, perché secondo me le ultime tre giornate potranno riservare parecchie sorprese e non è per nulla scontata che la situazione di classifica rimanga quella attuale. Ci sono degli scontri difficili per ogni squadra interessata. Tra l'altro c'è anche lo scontro diretto tra Roberto e Casalgrande. Tutto può ancora succedere. Succede che ci fermiamo ora, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati promozionali e poi ritorniamo di nuovo in studio per parlare di azzurro, anzi di azzurre. A tra poco. Ancora un tutto esaurito al Foro Italico in Roma dove i campioni non smettono mai di darsi battaglia. Pietrangeli strappa applausi con la volley bloccata di dritto. Slever esegue un perfetto serve in volley ma il rovescio a due mani di Borg è uno spettacolo. Gabriela Sabatini si sposta sul dritto e comanda lo scambio. Muster si allunga ma contro il top spin di Nadal non c'è speranza. Serena scaglia una botta da fondo però Sverev resiste e colpisce a lungo linea. Il re di Roma è lui. Gli anni passano, gli stili cambiano, un torneo che è già leggenda, resta. Dal 7 al 20 maggio al Foro Italico gli internazionali BNL d'Italia. Che storia! L'inverno sembra non finire mai. Sorridi! Riaprono le iscrizioni ai centri estivi della FIT per l'estate 2018. Visita il sito www.fitcentriestivi.it e scrivici a centriestivi at federtennis.it oppure chiama il numero 06 87 15 3570. Brallo, Serra Mazzoni, Castel di Sangro, Trabia, Bardonecchia e Paderno del Grappa ti aspettano per un'esperienza indimenticabile. Centri estivi FIT. L'estate dentro di te. Azzurra di scena, prossima settimana alla Palagolfo di Follonica, gara d'andata, match contro la Slovacchia, preceduto questo confronto da un training camp congiunto svolto a Salerno dalle nazionali italiana e statunitense ieri ricevute dal presidente del CONI Malagò. Matteo. Esatto, ricevuta la nazionale presso il Salone d'Ono del CONI in preparazione per l'Italia a queste qualificazioni ai campionati europei. Sabato sera alla palestra Palumbo di Salerno le azzurre scenderanno in campo contro gli Stati Uniti per una gara nuovamente importante, amichevole, sempre in preparazione a quella con la Slovacchia. Ma intanto il presidente Malagò e il CONI hanno voluto evidenziare l'importanza di questo appuntamento in Italia, la presenza degli Stati Uniti sicuramente ha suscitato curiosità e allora ascoltiamo le sue parole. Noi dobbiamo necessariamente allargare i nostri orizzonti, confrontarci anche con altre squadre, sappiamo benissimo quanto ci sia una competità soprattutto sul continente europeo, credo che questo sia un passaggio, insomma, mi sento di dire obbligato. le ragazze hanno bisogno assolutamente di... più possibile, anche se abbiamo una partita importante di qualificazione dei campionati europei e quindi bene ha fatto la federazione a fare questo e a continuare in questa direzione. Italia, dunque, che si prepara a questo doppio confronto contro la Slovacchia, si può fare qualcosa di importante? Ma diciamo che sicuramente è comunque un incontro, un doppio incontro complicato, però ritengo che magari nella partita in casa sicuramente abbiamo qualche chance in più, sarebbe estremamente interessante, estremamente utile per il movimento femminile poter cogliere un risultato positivo. Poi, sull'onda lunga di quanto fatto dalla maschile a Bolzano, no? Esatto, sull'onda lunga di quanto fatto dalla maschile a Bolzano, no? Ed ecoderebbe il movimento, ma io ritengo che magari nella partita di andata si potrebbe anche cogliere qualche risultato sorpreso. Ricordiamo che rispetto alle precedenti occasioni l'Italia potrà contare anche sull'apporto di Anika Di Der Wieser che per noi sarà sicuramente un valore aggiunto. Assolutamente, la stella del movimento italiano che sarà finalmente in campo a disposizione di Cocce Trilini. Vediamo intanto i servizi. Vincere per risollevare il morale, accrescere la fiducia, muovere il ranking europeo. L'Italia femminile si presenta al doppio match contro la Slovacchia valido per il gruppo 2 di qualificazione agli europei di Francia 2018 con le idee chiare e tanta voglia di far bene. Ricevute ieri sera a Roma dalla presidente del CONI Malagò, le azzurre sono in raduno da oggi a Salerno dove sabato sera la palestra Palumbo affronteranno gli Stati Uniti d'America in amichevole. Il tutto in preparazione al vero appuntamento, quello del 21 marzo prossimo al Palagolfo di Follonica dove arriverà la Slovacchia. Italiane e Slovacche partono entrambe dal fondo della classifica del gruppo 2 comandato nei pronostici e nei punti da Polonia e Montenegro. Ma vincere soprattutto davanti al pubblico amico è l'unica alternativa che Proustner e compagni sono disposti a mettere in conto. Il direttore tecnico Riccardo Trellini intanto potrà lavorare forse per la prima volta con la squadra praticamente al completo. Anika Niederwieser torna in gara ufficiale dove mancava dal novembre 2016 dopo l'operazione alla spalla e con in più le sette reti segnate di recente al Buducinos in Champions League. Infortunio smaltito anche per Bianca del Balzo che sarà della partita. Compattezza nell'intento e determinazione faranno il resto. Gara di ritorno già fissata per il 24 marzo a Sala in casa della Slovacchia ma ora la testa va a Follonica dove l'atmosfera sarà azzurra e caldissima. Il 21 marzo fisco d'apertura alle ore 18.15 con diretta televisiva dell'incontro su Sport Italia. Allora, conosciamo meglio la Slovacchia Matteo? Allora, partiamo col dire come detto nel servizio che Italia e Slovacchia sono le due squadre che non hanno vinto in questo girone. Il Montenegro e la Polonia sono di fatto fuggite via in un girone con sei gare complessive diventa complicato ipotizzare una rimonta però è chiaro che questa gara è molto importante per l'Italia per provare a fare punti per risalire il ranking europeo. La Slovacchia, come le azzurre non ha una grande tradizione in termini di grandi manifestazioni unica partecipazione all'europeo nel 2014. Abbiamo preparato una clip quello del 2014 è stato l'exploit della Slovacchia che però poi non ha avuto un seguito altrettanto importante tra l'altro rispetto a quell'edizione ci sono giocatrici meno alcuni hanno lasciato la nazionale slovacca proprio di recente Jacubiso va in particolare l'ala destra che gioca nel Turinger quindi con Anika Niederviser in Germania speriamo che abbia dato qualche dritta ad Anika ma non verrà in nazionale le due giocatrici invece principali sono la Rai Nova e la Skolkova soprattutto quest'ultima una giocatrice di 33 anni che gioca in Francia 70 presenze all'attivo ed è sicuramente l'elemento cardine di questa Slovacchia che però lo ripetiamo non è una squadra imbattibile e anzi in casa sicuramente dobbiamo puntare a fare il risultato. Allora è l'occasione giusta Massimo Petazzi per provare a sferrare il colpo insomma per ottenere un risultato importante che anche in termini di ranking aiuterebbe tanto. Sarebbe fondamentale ma anche per infondere a queste ragazze che tutto sommato è già parecchio tempo che stanno lavorando assieme stanno cercando di ottenere dei risultati sarebbe importante anche per loro per dargli la giusta carica per poter affrontare poi gli impegni futuri. Una carica che però poi trasmetterebbero in maniera diretta anche al Consiglio federale perché credo che poi anche voi abbiate bisogno dei risultati delle nazionali per poter Diciamo che sarebbe per noi importante per poter avere un ulteriore stimolo a implementare tutto il lavoro che stiamo facendo sulle nazionali ma perché no anche per le squadre signore. Assolutamente sì. Il Palinsesto quali sono gli appuntamenti di questa settimana? Velocissimi è un doppio appuntamento tutto sabato perché abbiamo già detto vediamolo con la grafica della gara Italia-Stati Uniti in diretta dalla palestra Palumbo di Salerno ore 19 che lancerà di fatto la diretta Sport Italia Cingoli-Fasano ore 20.45 Quindi una serata intera da trascorrere in compagnia della palla a mano credo che soluzione migliore difficilmente si può trovare nel palinsesto televisivo. Grazie grazie a Matteo Aldamonte grazie a Massimo Petazzi anche per i tempi assolutamente televisivi rispettati alla lettera grazie a tutti voi per averci seguito ritorna settimana prossima lo dicevo già in apertura sempre allo stesso orario sempre alla stessa ora giovedì alle 15.30 Handball Mania voi intanto continuate a contagiarvi perché la palla a mano è uno sport straordinario elettrizzante arrivederci il gol è meraviglioso vinta in aria un gesto tecnico bellissimo rivediamolo ancora applausi per Arseni mamma mia che gol spettacolo allo stato puro un gol pazzesco che gol aria 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 Grazie a tutti.